Se sei alla Juventus non puoi sognare di raggiungere un obiettivo, devi averlo, l'obiettivo, devi fare di tutto per raggiungere l'obiettivo e non so se questo attraverso il desiderio può ottenere una marcia in più, ma una cosa è certa, la Juventus nella sua storia ha sempre vissuto per vincere Vincere è l'unica cosa che conta, che non è una frase che leghiamo spesso ai momenti importanti della storia bianconera è un DNA, è un qualcosa nel quale il tifoso della Juventus si è sempre riconosciuto e proprio per questo motivo ritengo anche quest'anno la Juventus debba fare il meglio e il massimo per ottenere più possibile lo ha fatto l'anno scorso anche in una situazione difficilissima, in un momento in cui l'extracampo rischiava di mettere in discussione l'operato del campo tant'è che questa squadra la passata stagione ha chiuso al terzo posto in classifica non voglio ricordare sempre i famosi punti che oggettivamente sarebbero da aggiungere alla classifica dello scorso anno per un errore evidente del VAR nel match contro la Salernitana ricorderete quel gol annullato a Milik nonostante qualcuno si fosse dimenticato l'ultimo uomo della Salernitana, ovvero Candreva che riusciva a tenere in gioco tutti ma chiudiamo la parentesi, la scorsa stagione la Juventus ha chiuso al terzo posto poi è arrivata la penalizzazione, i bianconeri sono scivolati al settimo posto della classifica poi è arrivato il provvedimento della UEFA, tant'è che quest'anno la Juventus non fa le coppe europee ma tutto questo per dire che nonostante tutti i fattori esterni l'anno scorso questa squadra ha trovato comunque in se stessa le motivazioni per ottenere più possibile chiaro che questo fa parte dell'ambizione, fa parte della voglia di dimostrare di essere all'altezza della storia del club io credo Massimiliano Allegri ieri in conferenza stampa non abbia voluto giustificare i suoi giocatori non credo obiettivamente ci sia il tentativo da parte dell'allenatore di abbassare l'asticella credo piuttosto ci sia in questo momento la necessità evidentemente di distogliere un po' i propri giocatori dà la massima attenzione, credo voglia togliere un po' di pressione soprattutto quei giocatori che devono fare un percorso di crescita perché a differenza di altri super esperti magari non sono abituati a reggere determinate pressioni e credo forse anche per questo motivo abbia scelto di non schierare questa sera contro il Lecce negati, protagonista obiettivamente di un errore che insomma non si commenta neanche è Vlaovic Vlaovic è uscito dal campo come sempre un po' nervoso quando non riesce a far gol e questo è un aspetto che il centravanti serbo deve sicuramente migliorare per se stesso ancora prima che per la Juve Torno a Gatti, è vero che ha commesso un errore, è vero che l'autogol obiettivamente è un po' fantoziano è altrettanto vero che credo l'elemento che abbia distorto la partita del MAPAI Stadium contro il Sassuolo sia stato uno dei giocatori più esperti della rosa di Massimiliano Allegri ovvero Tekscesni anche perché dopo i due errori commessi in altrettanti gol subiti obiettivamente a quel punto della partita non puoi occuparti di un calcio da fermo in posizione defilata eravamo quasi vicinissimi alla linea laterale del campo per mettere nelle condizioni di difficoltà un tuo difensore che si trova dall'altra parte del campo quindi questo pallone ha attraversato tutta l'area di rigore con la porta evidentemente libera e Gatti era in quel momento lì sotto pressione per la presenza di un avversario ha commesso un errore Gatti, ha commesso un errore Scesni però mi pare significativo l'indirizzo che oggi dà Massimiliano Allegri attraverso le scelte per Juve Lecce cioè protegge i due giovani fermo restando che Blaovic sicuramente ha un valore superiore per quanto riguarda il progetto tecnico della Juventus Gatti però anche se l'anno scorso ha fatto la sua prima stagione in Serie A io credo possa avere grandissimo futuro nel club bianconero anche perché se poi andiamo a scavare nella storia altri profili simili a Gatti ci accorgiamo come poi col tempo sulla media a lunga distanza giocatori con le qualità umane oltre che tecniche di Gatti poi possano trovare davvero una lunga vita all'interno della Juventus la diversa gestione qual è? Scesni va in campo perché Scesni è un leader di questa Juventus ed è un giocatore che deve riscattarsi subito per il semplice motivo che deve dimostrare di poter essere di riferimento per la squadra per i giocatori più giovani, per lo stesso Massimiliano Allegri, per tutta la tifoseria perché Scesni, sendo il portiere titolare della Juventus non può permettersi obiettivamente gli errori commessi contro il Sassuolo non voglio giustificare Gatti per l'errore commesso ma se in questa Juventus non possiamo fidarci dei leader, dei riferimenti principali della squadra obiettivamente credo il problema principale sia quello cioè il fatto che di leader ne abbiamo già pochi quei pochi devono essere impeccabili e credo per questo motivo Allegri abbia deciso di dare continuità alla titolarità di Scesni questo turno in prasettimanale sarebbe magari potuto scendere in campo per in non sarà così, Scesni andrà in campo regolarmente dal primo minuto andiamo a vedere anche la probabile formazione che è stata provata nel corso della rifinitura di questa mattina esordio stagionale per Daniele Rugani che giocherà nei tre dietro insieme a Bremer e Danilo Danilo che forse avrebbe anche avuto la necessità di rifiatare ha giocato tantissimo anche in nazionale ma in questo momento obiettivamente la Juve non può fare a meno del suo leader principale, del suo capitano a centro campo confermati Locatelli e Rabiot comincerà a Fagioli e non Miretti anche questo credo sia un indirizzo di Massimiliano Allegri su quella che è la partita che vuole fare contro il Lecce probabilmente vuole palleggiare un po' di più vuole piuttosto mettere in difficoltà il centro campo del Lecce Lecce che fin qui è rimasto imbattuto insieme all'Inter quindi non è sicuramente un avversario da sottovalutare sulla fascia sinistra torna titolare Andrea Cambiaso sulla destra continuità invece per McKennie quindi l'americano dovrebbe cominciare dall'inizio magari poi vedremo anche UEA nel corso della partita l'esclusione di Vlaovic in avanti porta alla titolarità di Arek Milik un giocatore che Massimiliano Allegri ha voluto fortemente in estate la Juventus lo ha riscattato dal Marsiglia il polacco è pronto per mettersi a disposizione giocando dal primo minuto contro il Lecce accanto a Chiesa che in questo momento è un imprescindibile forse anche Chiesa avrebbe avuto necessità di rifiatare un attimino ha dato tantissimo nelle ultime uscite ma obiettivamente il Chiesa che abbiamo visto contro il Sassuolo l'unico che si è salvato dalla gara di Reggio Emilia obiettivamente in questo momento serve in campo e per questo motivo Allegri lo schiera dal primo minuto like al video se vi è piaciuto ma soprattutto datemi il vostro commento su quella che è la partita che vi aspettate da parte della Juventus contro il Lecce e iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto e attivate la campanella delle notifiche e iscrivetevi al canale